Il direttore dell'autosporto di Santa Cinsana, tutti venuti, appunto, i vestiti, i veicoli commerciali, i vestiti, i cavalli, i posti, appunto, sti, tracciati. Tapp neumatici, ceglie messapica. Revisione Turbine, Mario Montanari. Meccanica. Punto vendita e servizio. Via dell'industria. Pasare. Pasare. Dimmi mobili. Bravo Italo, concludo. Un 1-14. Grazie a tutti.